Saltano fuori delle intercettazioni che ci raccontano di imprenditori, magistrati, politici e criminalità organizzata che usano la protezione civile per divorare quello che resta del paese. Salta fuori che il capo della protezione civile Guido Bertolaso è indagato per corruzione e il suo ex numero due Angelo Balducci per corruzione e per un giro di prostituzione che coinvolge anche un corista del Vaticano. Volevo ringraziare per ora, per ora è finito, abbiamo senso, lui mi ha fatto un po' di storia sulle che lo legge infatti me l'hanno rinviato però sulle altre cose è tutta posta, grazie di tutto davvero. Salta fuori che per il G8 alla Maddalena gli appalti sono stati gonfiati fino all'80%. Salta fuori che uno degli imprenditori coinvolti è il cognato di Bertolaso. Allora anche per il fatto che il cognato di Bertolaso deve andare a lavorare in Svizzera, no? Ho capito io. Salta fuori un esercito di 350 escort messo in piedi dalla cricca di imprenditori per corrompere i funzionari dello Stato. Sposa media galattica. Chiudo. Ma lì da voi? Chiudo il circolo due ore prima, setta al centro benessere.